Visto questo è quello che succede quando condividi l'amore liberamente invece di rubarlo Fluttershy Anche io sono felice di vederti Discord Starlight Che cosa è successo? Abbiamo sconfitto qui in Crisalis senza usare la magia I mutanti hanno trovato un nuovo leader e insomma pare che ora siano diventati buoni Ottimo lavoro Starlight Glimmer hai fatto progressi da quando abbiamo parlato l'ultima volta Quando Twilight e le sue amiche mi hanno sconfitto ho scelto di scappare per potermi vendicare Non commettere il mio stesso errore tu puoi essere il nuovo leader che i mutanti si meritano Non puoi neanche lontanamente immaginare quanto sarà violenta e devastante la mia vendetta Che un giorno si abbatterà su di te Starlight Glimmer Torax come nuovo leader dei mutanti non vedo l'ora di parlare con te di come potremo migliorare i rapporti fra i nostri regni Detto questo per adesso forse è meglio andarci nel lasciare il regno dei mutanti ai nuovi mutanti Meraviglioso discorso! Ora chi ha voglia di festeggiare con una buona tazza di tè da Fluttershy? Oh, intendi tutti quanti? In realtà ora che puoi di nuovo farci riapparire ovunque semplicemente schioccando gli artigli Penso proprio di avere un'opzione migliore Bentornata Starlight, che cosa ci fai qui? Te ne sei andata così di corsa prima, abbiamo pensato che non volessi rimanere In effetti la verità è che dopo aver usato la mia magia in modo malvagio Non ero sicura di essere in grado di gestire nemmeno una gara di dorte Avevo paura di tornare a essere quello che ero stata una volta Ma ho capito che non bisogna rimanere ancorate al passato Dobbiamo cercare di migliorare e io sono davvero cambiata Ora posso farcela, che si tratti di salvare questi o di aiutare degli amici con il festival del tramonto E a proposito di questo, so che il festival è quasi finito Ma mi sono permessa di invitare alcuni dei miei nuovi amici Se per voi va bene Ma stai per caso scherzando? Siete benvenuti! Ottimo! Allora ditemi subito dov'è questa gara di torte Qui c'è qualcuno che ha bisogno di un cupcake A quanto pare sono di nuovo in grado di squarciarti che formano la realtà Sì, sì, e io sono di nuovo solo una semplice illusionista sopravvalutata Dico bene? In realtà stavo giusto per dire che alcuni dei tuoi trucchetti sono decisamente sopra la media Se avrei bisogno di un po' di caos nei tuoi show, fammelo sapere Certo, quando i maiali voleranno Se è quello che vuoi, ecco ti accontentata Ho come la sensazione che ci siamo perse qualcosa Non sembra anche a voi amiche?